Tanti nomi che circolano ma sembrano ancora lontane le amministrative 2024 che tra qualche mese vedranno i cittadini di Bari andare alle urne per scegliere il nuovo sindaco della città. Entrambe le coalizioni, quella di centrodestra e quella di centrosinistra, sono ancora riunite attorno ai tavoli di confronto per trovare il proprio candidato. Al centro del dibattito politico c'è la questione morale e il coordinatore pugliese, sottosegretario al Ministero della Salute, Marcello Gemmato, punta il dito contro il centrosinistra. Il tavolo si sta riunendo in maniera continua e costante, continuiamo ad analizzare la figura del profilo migliore che possa rappresentare una battaglia vincente non per il centrodestra ma per i baresi. Non interveniamo in spaccature dell'altra coalizione, registriamo le parole un po' pesanti rispetto alla moralità che vengono da uno dei possibili candidati del centrosinistra, il che ci preoccupa perché se l'avvocato Laforgia, a giusta ragione, sostiene che le primarie non si possono fare perché inquinate, ci fa riflettere sul grado di moralità che purtroppo in questo momento c'è nella politica barese, del fatto che sostanzialmente, probabilmente, le pieghe delle croniche giudiziarie siano legate a queste fattispecie, il fatto che abbiano arrestato l'ennesimo collaboratore di Emiliano ci racconta tutto questo, ora vorremmo che anche la moralità ritorni ad essere centrale all'interno del dibattito politico barese, registriamo le parole di onestà, di linearità dell'avvocato Laforgia che conosciamo e sappiamo essere persone di valore, ci preoccupano oggettivamente però noi nel centrodestra riusciremo a fare pulizia e sicuramente cercheremo di dare un contributo alla moralità della nostra Bari. Grazie